Reprimere e contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti allo stesso tempo istituire un presidio permanente sul fronte della sicurezza. Tanto mira l'installazione sul territorio comunale di un sistema di videosorveglianza che insieme all'incremento del numero di agenti della Polizia Municipale, sette nuove unità provenienti dalla Polizia Provinciale di Salerno serviranno a mettere in atto il progetto Toleranza Zero illustrato questa mattina dal primo cittadino Ernesto Sica. Sì, oggi possiamo dirlo più di ieri perché abbiamo un corpo forte che si sta rafforzando e si rafforzerà ancora nei prossimi anni, un corpo che si è robustito grazie alla venuta di sette vigili della Polizia Provinciale. Io credo che possiamo fare, credo che possiamo realizzare un progetto che si chiama Toleranza Zero perché scostumati, vandali, cafuni eppure extracomunitari che non riteniamo che possono avere residenza in questa città perché non hanno la cultura dell'ospitalità, dell'accoglienza, non hanno la cultura della cittadinanza quindi debba andare via. Quindi Toleranza Zero e su questo noi andiamo avanti e siamo impegnati. Lo diceva il Comandante dei Vigili, verrà fatto anche un monitoraggio delle abitazioni per vedere insomma anche controllare la regolarità degli affitti. Sì, noi grazie a questo rafforzamento del corpo intensificheremo alcune aree dove vedo un aggregarsi di extracomunitari e mi preoccupo. Oggi abbiamo le forze in campo per fare un monitoraggio costante in queste aree e di intervenire con l'ausilio e con l'intendenza o rapporto che ci sono con i carabinieri, con gli altri, con la Polizia, con la Guardia di Finanza per intervenire con determinazione contro quello che mi preoccupa tanto e che probabilmente realizzano anche dei furti sul territorio. Infatti lei faceva riferimento anche al problema della sicurezza, c'è poi anche l'altro problema quello dell'igiene ambientale con un'attenzione particolare alla fascia litoranea. Sarà uno degli step che lei ha annunciato in questo cronoprogramma di Toleranza Zero? Sì, subito la realizzazione di videosorveglianze, subito spero per Natale, inizio anno al massimo tre mesi per i tempi burocratici, per realizzazione di videosorveglianze in 5-6 punti in modo particolare. E lì poi cerchiamo di fare certo che qua si è scostumata, questa gentaglia che mette rifiuti in qualsiasi ore del giorno sono da cacciare via, sono inaccettabili. E come sottolineava il primo cittadino, uno degli step del progetto riguarderà proprio la ripressione contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti, in modo particolare sulla fascia litoranea, come assicura anche il nuovo comandante dei vigili urbani di Ponte Cagnano, Francesco Lancetta. Sì, litoranea là c'è un grosso problema perché nonostante gli sforzi da parte nostra e di tutti gli operatori ecologici è un problema che esiste perché ci sono persone che sono lì in zona, immigrati, ma pure persone di identità italiane, i quali non rispettano quelli che sono i canoni di conferimento dei rifiuti e quindi là abbiamo fatto un grosso lavoro tutta l'estate e soprattutto adesso noi creeremo un nucleo in abiti civili che controllerà proprio questa situazione del rifiuto selvaggio.